Attenzione, questo video è spoiler per chi segue la WWE su D-Max. E parliamo di Rey e Dominik Mysterio che nella prossima puntata di Raw affronteranno Finn Balor e Damian Priest dopo che questi ultimi li hanno provocati. E nello specifico hanno detto a Rey Mysterio di essere un pessimo padre, perché non è riuscito ancora a lanciare ad alto livello la carriera di Dominik. Quest'ultimo possiede l'identikit perfetto di coloro desiderati dal Judgment Day. Atleti che si sentono un po' frustrati, che sono stufi di ricevere ordini, che vogliono emanciparsi e che desiderano costruirsi un domani uscendo dalla strada che qualcun altro ha deciso per loro. Quindi le basi narrative ci sono tutte, il Judgment Day potrebbe tornare sulla mappa di Raw grazie a questa rivalità, e poi forse dopo diversi stop and go, magari in vista di WrestleMania, quindi un long shot, o magari no, magari già per SummerSlam, comunque sia nel contempo si può sviluppare la rivalità padre e figlio che tante volte abbiamo annusato e poi è stata riposta nella credenza. È il momento giusto per questa separazione? Ray e Dominik? Io credo di sì. Nel senso che Dominik ormai vive all'ombra di Ray da troppo tempo. Lo abbiamo già visto come figlio fedele durante la rivalità con Seth Rollins e la sua fazione. Da allora nelle gerarchie WWE non ha fatto progressi. È sempre stato l'erede da proteggere, quello da difendere, certo quello anche con cui vincere i titoli tech team, ma poi Ray e Dominik sono sostanzialmente usciti da quella categoria e chiunque volesse prendersela con l'atleta mascherato, il Virman di turno, prima è sempre passato dal trampolino rappresentato da Dominik. Quindi mi piace questa storia e spero che stavolta la WWE tiri la leva sino in fondo. Perché che il Judgment Day corrompa la mente di Dominik, che riesca a separarlo dal padre, che ne faccia un atleta diverso, che lo caratterizzi anche in modo differente rispetto a ciò che vediamo da troppo tempo, secondo me è quello che serve al giovane. Potrebbe funzionare o no? Il tempo sarà sovrano. Gli sceneggiatori dovranno dare una mano a Dominik e al Judgment Day. Però quantomeno c'è una novità, c'è una progressione del personaggio, c'è una variazione dopo aver, secondo me, estratto tutto quello che c'era da tirare su da un orto sin troppo coltivato. Quindi ripongo un po' di fiducia in questa storia e la rivalità padre figlio con Dominik, giubbotto di pelle, cattivo, faccia truce, con gli amici, i nuovi amici, che lo portano sulla cattiva strada, ecco questo scenario io lo voglio vedere. Mi intriga. E a voi? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti.